Sono tornate le ruspe nel ghetto di Borgo Mezzanone, l'insediamento abusivo che si trova a una decina di chilometri da Foggia. Una quarantina alle strutture che saranno abbattute, tra cui 17 utilizzate come abitazioni. È la quarta volta dall'inizio dell'anno che le ruspe vengono qui nel ghetto di Borgo Mezzanone. Sono 17 le baracche di bite ed abitazioni che sono state abbattute, baracche dove vivevano 64 migranti nordafricani. Tra le baracche abbattute è anche quella in cui abitava il cittadino del Gambia, morto il 26 aprile scorso per un incendio causato da un cortocircuito nella sua casa in legno. Oltre un centinaio gli uomini tra carabinieri, polizia e guardia di finanza che hanno operato con i militari dell'undicesimo genio guastatori dell'esercito italiano. Oltre alle baracche utilizzate come abitazioni, le ruspe hanno abbattuto anche altre strutture adibite a luoghi di ritrovo, vendita di alimenti e bevande e di altre attività illegali. Per i 64 migranti sono pronti i moduli abitativi realizzati in una struttura a Sansevero. Bisognerà ora vedere quanti di questi 64 migranti accetteranno questa soluzione o preferiranno recarsi in altri ghetti. Proprio il futuro degli ospiti del ghetto di Borgo Mezzanone è la vera incognita. Nei mesi scorsi, quando furono effettuati i primi abbattimenti, molti dei migranti sgomberati dall'insediamento abusivo scelsero di andare a vivere in altri ghetti piuttosto che nelle strutture legali messe a loro disposizione.